Buona domenica dal vosso Edoardo di Fraternity.it. Oggi è il valore dell'armonia. L'armonia è il quarto valore archetipico, il cui simbolo è il punto rosso di volontà al centro del fiore della vita, giallo attenzione, raffigurato da 64 cerchi che si intrecciano a formare una matrice. Significa che tutte le creature sono in stretto rapporto e l'onda vitale che ciascuna emette si compenetra con le altre, fino a creare una rete interdipendente. L'armonia dunque emana dall'accordatura degli strumenti personali che si intonano tra loro per diffondere una musica corale. Il pensiero seme. L'armonia è l'arte della relazione che nasce dalla consapevolezza che ciascun uomo suona una nota univoca nel creato. Bene, è ritornata l'armonia, questo valore. Vorrei portare la vostra attenzione su quella nota univoca che ciascuno di noi emette. Ebbene, è una nota con una sfumatura, cioè un'armonica, differente. In otto miliardi che ora siamo incarnati su questo pianeta, ciascuno emette una sfumatura di nota unica, univoca. ebbene, questo è fantastico, poiché ciascuno di noi ha la sua parte in questa creazione. Ma dobbiamo scoprire qual è quella nota in tutte le scale possibili. Dunque, come facciamo a scoprire la nostra nota per poterla suonare con il nostro strumento e metterla a disposizione della creazione? Ebbene, un modo c'è, ed è quello di ascoltare il nostro cuore, poiché il nostro cuore non solo è lo strumento di sintonia, ma proprio per questo può risuonare con tutte le vibrazioni del creato e quindi emetterle. Ma il cuore, il nostro cuore, ne emette una in particolare, che è quella a cui è destinato dal destino dell'anima, ed è proprio quella nota. Dunque, ascoltando il nostro cuore, quando ci poniamo in esso, come bambini nella culla, nella propria culla, sì, dobbiamo ritornare bambini, proprio quei pargoletti che, protetti nella culla, emettono appena nati quella nota. Quindi, se ritorniamo bimbi, bebè, in quella culla del nostro cuore, ascolteremo la nota e la sapremo poi mettere a disposizione del bene collettivo, il grande bene comune, affinché risuoni in quella sinfonia. Dunque, entriamo nel nostro cuore e stiamo in ascolto. Quella nota avrà un sapore conosciuto, sì, la riconosceremo dentro di noi, perché è quella a cui siamo destinati. Quindi, quella nota è una particolare attività, predisposizione, un particolare talento che è nascosto, celato in noi e solo il cuore lo emette. Bene, allora stiamo in ascolto di quella nota, scopriamola e mettiamola a disposizione di tutti. È proprio tutto per oggi. La domenica si tinge di rosso, il rosso della vita, della vitalità e dunque oggi proviamo a stare in ascolto del nostro cuore per scoprire quella nota univoca che è messa in relazione nel fiore della vita che è l'intreccio vitale che suona un do 64 hertz il do ottava zero ebbene è quell'accordo che pone la vita in risonanza. Bene, buona armonia da fraternity punto it ti. grazie a tutti.